Giovanni Battaglini, è arrivato il momento dell'ospite con l'aiuto di Beppe Conti, con Pino Frisole alle Teche, abbiamo recuperato immagini della sua carriera. Beppe? Ebbè sì, non c'è che l'imbarazzo della scelta perché Giovanni Battaglini, ripetiamo... Cominciamo con lui al Tour de France, miglior scalatore. Certo, miglior scalatore del 79, abbiamo un'immagine abbastanza inedita che è lui che cerca di vincere una tappa addirittura in pista e va in fuga con il campione del mondo Jerry Knett. Guardate la maglia, qui c'è Félix Levitin che va da Battaglini, la maglia a poix mitica, era in primi anni che c'era questa maglia a poix e Giovanni Battaglini cerca la vittoria in volata in pista con Knett, ma c'è un problema che c'era solo da fare un mezzo giro di pista, vero Giovanni? Esatto, pensavo che si facesse un giro completo e poi l'arrivo invece... E non ce la fa a rimontare Jerry Knett. Normalmente Knettemann andava abbattuto, no? Battaglini. Eh, ma era un veloce Knettemann. Abbattuto anche Moser. Poi tirava poco in quel periodo lì, tirava poco. E poi la maglia a poix la portò a Parigi? Sì, sì, sì. Quindi sesto in classifica anche. Sesto in classifica. Sesto in classifica con la maglia a poix. Miglior maglia a poix nel secondo tour di Bernardino. Mondiale 79, qui apriamo una ferita, eh? Una delle più grandi scorrettezze della storia del ciclismo. Guardate questo finale. Il mondiale era di Battaglini perché in volata probabilmente avrebbe fatto un sol boccone degli avversari, ma guardate cosa succede. Touraud avanti, Jan Ras nella scia, Giovanni Battaglini e poi il francese Chalmel. Guardate, pronti per la volata, Touraud avanti, Ras nella scia, Battaglini in terza posizione. Io ero già partito, vedi. Il più fresco di tutti parte, ma i due lo chiudono e lo gettano a terra. Guardate, Battaglini sull'asfalto a terra con una mossa veramente piratesca. Esatto, qui è stata fatta voluta perché in quel periodo io vincevo, è stato l'anno del tour, poi facevo tutti i circuiti in Belgio e Olanda. Venivo in Italia, vincevo, ho vinto il Matteotti con 8 minuti, ho vinto parecchie cose prima del mondiale, fino a tre giorni prima del mondiale, ho vinto l'agostoni con 5 minuti. Era proprio nel momento di massimo fulgore quell'estate lì, no? Sì, 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 è stato l'anno più bello per me perché sono uscito dal tour che aveva una condizione straordinaria. Guardiamo il ralenti, guardate il ralenti, che scorrettezza incredibile. Ma io li avevo anticipati, li avevo un po'. E per quello che ti hanno gettato a terra, era già partito, era più fresco e allora devia così Ras con Touraud, hanno fatto questa deviazione, Battaglini era a mezza ruota e cade a terra. E perde così un titolo mondiale. Sì, peccato perché la maglia si porta un anno intero. Era nettamente il più fresco e il più forte in quell'occasione. Pensa che nel 79, Beppe, il nostro ospite vinse il Matteotti, il Pantalica, il Giro della Provincia Reggio Calabria, l'Agostoni, la Placci. Era proprio una collezione. Paesi baschi con tre tappe. Pensa che in una di queste gare la Coppa Agostoni era in fuga da solo dietro Moser, Saronni e tutti gli azzurri. Martini andò a fermarlo e a dirgli molla un po' Giovanni perché stai andando troppo forte ai tre minuti di vantaggio. Non umiliare gli altri azzurri. Talmente andava. E adesso nella stagione dei 30 anni, 1981, lei Battaglini è coetaneo di Moser, no? E anche del nostro Beppe Conti. 22 giorni più vecchio. Perfetto. Andiamo a vedere la stagione magica. Vuelta e Giro d'Italia, entrambi vinti nello spazio di due mesi scarsi. Incredibile. Un record incredibile. 45 giorni. La Vuelta era a fine aprile e poi c'era il Giro d'Italia. Guardate, questo è il momento in cui Giovanni Battaglini va a conquistare la maglia rosa. Siamo sulle tre cime di Lavaredo. Le tre cime di Lavaredo sono andati via due svizzeri, Broi e Fuchs, che erano fuori classifica, ma è lui a staccare Silvano Contini, a staccare Saronni, Prim, Baronchelli e tutti gli altri leader. E va a conquistare il Giro d'Italia su questa cima storica, leggendaria delle tre cime. Guardate, vince quel giorno la tappa Bitbroi, uno scalatore svizzero, che andava bene su queste strade. Che lui è andato via in discesa da Treclocci. Esatto. E anche Fuchs è andato via su un lago in Misurina, in pianura all'isola. E' quello Fuchs che arriva, anche lui, lo svizzero, ma poi alle spalle di questi protagonisti di giornata ci sono gli uomini di classifica ed è qui che Giovanni Battaglini fa la differenza. Guardate che ritmo di pedalata, il vero scalatore che ancora nel finale cerca di guadagnare terreno sugli immediati inseguitori che sono in classifica. E su questo traguardo storico Giovanni Battaglini conquista in maniera definitiva la Maglia Rosa e vince il Giro d'Italia. Qui invece è Silvano Contini, che sarà nostro ospite anche, e che perde la Maglia Rosa su questo traguardo storico, le tre cime di Lavarello. Tantissima posta per lei, le chiedo delle risposte velocissime. Vittorio Corsi della provincia di Brescia dice, io ero un suo grande stimatore, Battaglini era l'unico corridore che quando partiva in salita ero sicuro che non l'avrebbero più ripreso. Ma le chiede, qual è il corridore che lei Battaglini ha più apprezzato nella sua carriera? Fuente, perché era uno scalatore come me. Esatto, fuente, perché c'era la stessa domanda. Il Mont Ventoux a quale salita italiana può essere paragonata? È difficile, perché il Mont Ventoux non l'ho mai fatto, quindi non lo conosco proprio di persona pedalando. Però ci sono tante salite. È una salita nelle Marche che ha una vegetazione, il Montepetrano, ti ricordi che l'hanno fatta? L'abbiamo fatta al Giro d'Italia. Bravo, nel Giro del Centenario, quella vagamente somiglia. Andrea Davarese, Battaglini, lei si è ritirato troppo presto, si è pentito di questa scelta? No, perché ero stanco un pochino e poi avevo iniziato la mia attività da costruttore di biciclette, quindi ho voluto dedicarmi il 100% su... Hai anche avuto una brutta caduta quell'incidente? Sì, poi è stato nell'82 quando sono caduto e ho avuto nove fratture, quindi... Dove è successo l'incidente? Il Profeo Pantalica... Giù in Sicilia, no? E lì ho fatto fatica a riprendere, poi dopo un anno ho preso anche le partite al Giro d'Italia, ho preso anche le partite alimentari, quindi i risultati poi ero abituato a vincere 10-15 corsi all'anno, quando ne vincevo 2-3 mi sentivo un po' in disagio e quindi ho voluto dedicare più tempo alla mia attività. Un telespettatore ci ha mandato un ritaglio di giornale della sua vittoria al Giro dell'Appennino, che è stata una delle prime classiche che lei vinse, era il 74, quindi insomma aveva 23 anni, Giro dell'Appennino, andiamo a vedere questo ritaglio di giornale, se possibile con l'ausilio della nostra grafica, ecco, no, questo è il Giro del Lazio, è un Giro del Lazio, prima ancora, no? Sì, questo è il primo anno da professionista che ho vinto il Giro del Lazio con distacco. E poi, ecco, questo invece è l'Appennino, battaglino ha messo tutti i KO sulla salita della bocchetta verso la fuga vittoriosa.